benvenuti al nostro nuovo videogiornale assemblea diocesana e consegna del piano pastorale sabato 11 settembre alla domus pacis di santa maria degli angeli si è tenuta l'assemblea diocesana all'iniziale momento di preghiera è seguita la relazione introduttiva di monsignor erio castellucci arcivescovo di modena non antola e vicepresidente della conferenza episcopale italiana sul tema chiesa come famiglia famiglia come chiesa al cuore dell'annuncio del vangelo dopo il dibattito il domenico ha spiegato i punti principali sui quali ha incentrato il piano pastorale che è stato consegnato domenica 12 settembre al termine della celebrazione eucaristica nella basilica di santa maria degli angeli presentato a roma il libro del vescovo è stato presentato lunedì 13 settembre all'ambasciata d'italia presso la santa sede il libro del vescovo domenico intitolato francesco d'assisi e l'economia della fraternità per ripartire dagli ultimi dopo i saluti istituzionali dell'ambasciatore pietro sebastiani sono intervenuti alla presenza dell'autore marco piccolo imprenditore amministratore delegato di reinaldi paolo guerrieri economista visiti in professor di science po e università di san diego luigi paganetto vicepresidente di cassa depositi e prestiti ha moderato paola spadari giornalista presidente dell'ordine dei giornalisti del lazio san rufino darce un giovane per la pace dal cuore di assisi domenica 12 settembre è stato presentato in prima visione facebook un video nato da un'idea di ars pace in collaborazione con il museo diocesano e cripta di san rufino di assisi il restauratore fernando carmisano e con lo studio fotografico focale 50 di bettona l'evento online mira come ogni iniziativa dell'associazione a promuovere i valori fondamentali della pace attraverso la cultura e l'arte ars pace nel filmato prendendo in esame la tela raffigurante san girolamo e san rufino darce opera del pittore cesare sermei attivo nel diciassettesimo secolo custodita nel museo e recentemente restaurata ha voluto offrire attraverso la visione delle varie fasi del restauro e gli interventi di storici dell'arte ed esperti in teologia uno spunto di riflessione sui temi di verità e pace obiettivo finale dell'iniziativa è quello di raccogliere fondi destinati al centro casa papa francesco tempo del creato ecco le iniziative ad assisi il tempo del creato inaugurato ad assisi il primo settembre con il sentiero di francesco verrà vissuto quest'anno al prato di san francesco dal 17 al 25 settembre con la tenda di abramo aperta con i pellegrini diretti a gubbio sabato 18 ci si unirà alle piazze di economio francesco distribuendo ai pellegrini dei braccialetti blu come segno di vicinanza alle donne afghane domenica 19 la tenda ospiterà l'evento liberati di amare promosso dalla pastorale giovanile diocesana di assisi attraverso momenti di preghiera e riflessione rivolti ai più giovani venerdì 24 verrà ospitata una videoconferenza organizzata con il vvf lipu e dalle scuole del territorio sul tema della biodiversità che sarà trasmessa in diretta anche presso gli istituti scolastici infine il 25 settembre verrà smontata la tenda di abramo portata a piedi presso il contesto naturale del santuario della madonna dei tre fossi dove la sera si vivrà una veglia alle stelle con i gruppi agesci alla vigilia della preghiera ecumenica diocesana in programma sempre alla madonna dei tre fossi domenica 26 settembre giornata mondiale del migrante e del rifugiato a colle valenza il pellegrinaggio delle famiglie umbre sabato 11 settembre nel santuario dell'amore misericordioso di colle valenza si è tenuto il 14esimo pellegrinaggio delle famiglie in preparazione del decimo incontro mondiale delle famiglie di giugno 2022 sono stati tanti i momenti di preghiera riflessione e testimonianza che hanno caratterizzato la giornata il pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia promosso dal rinnovamento nello spirito dall'ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della conferenza episcopale italiana dal forum nazionale delle associazioni familiari con il patrocinio del dicastero dei laici famiglia e vita si è svolto in contemporanea in 20 santuari mariani d'italia e di svizzera diciottesimo anniversario fondazione della confraternita misericordia di assisi tra le tante iniziative organizzate in occasione dell'anniversario domenica 12 settembre nella chiesa parrocchiale di palazzo di assisi si è tenuta la santa messa presieduta dal vicario generale don jean claude asume e la vestizione dei nuovi confratelli della confraternita istituto serafico per rendere omaggio alla vita più fragile e indifesa in occasione del suo centocinquantesimo anniversario l'istituto serafico ha organizzato una serie di iniziative il 17 settembre giorno della fondazione del serafico alle ore 21 presso il teatro lyric di assisi si svolgerà un evento celebrativo con la proiezione del docufilm nella vita c'è la vita realizzato dalla regista maria amata calò ospite speciale della serata sarà giovanni caccamo cantautore scoperto da franco battiato e vincitore della categoria nuove proposte alla 65esima edizione del festival di sanremo il 18 settembre alle ore 21 presso la piazza della basilica inferiore di san francesco di assisi si terrà in onore del serafico il concerto della banda della polizia di stato che vedrà la partecipazione del tenore francesco grollo il 3 e 4 dicembre si svolgerà il primo convegno internazionale assisi cambridge sui disturbi del neurosviluppo disabilità e neuroscienze il 13 dicembre si terrà l'udienza speciale in vaticano di papa francesco per il serafico di assisi per l'intero programma delle celebrazioni dei 150 anni del serafico consultare il sito www.serafico.org vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie realtà della diocesi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 43 42 vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo video giornale